La situazione provvisoria di gestione della colonia felina di Cremona, tale per cui le volontarie APAC per ora continueranno ad accudire e nutrire i gatti nell'immobile in via Bissolati, di proprietà della fondazione Stauffer, è frutto di una cattiva gestione, secondo la minoranza, che mette in luce i conflitti di interesse che riguardano la posizione del sindaco. Se pensiamo che il sindaco è responsabile della salute degli animali, è l'ente come comune che deve interloquire con l'ATS per individuare chi si occupa degli animali, in questo caso appunto era l'associazione, essendo la colonia gattile riconosciuta sia dal comune sia dall'ATS. È colui che avrebbe dovuto trovare il posto eventualmente dove spostare i gatti perché è il sindaco che si deve occupare dei luoghi dove risiede la colonia. In più, questo è il paradosso, fa parte del consiglio di amministrazione della fondazione Stauffer, che è la fondazione che ha fatto causa all'associazione per liberare l'immobile da persone, cose e animali. Peraltro, incontrando una sentenza, è un diniego del giudice che ha liberato solo di cose e persone, ma non di animali. Quindi paradossalmente l'associazione Stauffer avrebbe dovuto occuparsi lei dei gatti, quale proprietaria del sito. Il progetto esecutivo della nuova oasi felina in via Brescia è stato approvato, ma parlare di un'oasi intangenziale appare una contraddizione. In ogni caso, la data in cui la struttura verrà pronta non è nota. Non sappiamo ancora quando verrà pronto il posto dove trasferire i gatti perché nel frattempo il comune sta tergiversando e poi il nuovo posto che noi sappiamo è abbastanza ridicolo perché è adiacente alla tangenziale e nello stesso spazio ci dovrebbe sorgere anche il forno crematorio per gli animali. Quindi io non so quei gatti come la vivranno questa nuova locazione.